allora a pratizzano beach sabato 28 maggio sono in solitaria e ho già cambiato tre boschi ho già trovato molti funghi che ho lasciato lì e finalmente questo sembra decente andiamolo a vedere direi che un bel papavero secondo me secondo me appoggia un gambo signori secondo me è un bel papavero il gambo è un po cavo ma tanto per capirci bene il bagnino saluta il piffero maruga il bif che hanno partecipato con me a questa escursione da casa il video è niente adesso continuo perché sono carico ciao a tutti